Ricerche a tutto tondo per ritrovare l'uomo di Castelletto Cervo scomparso da domenica. Si cerca nel torrente Cervo ma anche nei casolari della zona. La giunta regionale stanzia 230.000 euro per finire la tangenziale della Valle dell'Oro. In totale il progetto costa 2 milioni di euro. La provincia ha aperto le adesioni al programma di riqualificazione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga. Anche Muzzano deve fare i conti con la crisi e con il bilancio stretto. Tuttavia l'amministrazione riesce a sostituire la vecchia e obsoleta illuminazione stradale. E non sono mancate le sorprese al torneo internazionale di scacchi Città di Biella. Diversi risultati interessanti al termine delle gare particolarmente seguite a Città Studi. Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Benché non ci siano novità sul ritrovamento dell'uomo di Castelletto Cervo, Albino Cagna, scomparso ormai da domenica scorsa. Domani da Genova arriveranno anche i sommozzatori dei vigili del fuoco nella speranza di non dover trasformare un mistero in una tragedia. Vediamo il servizio. Sono ricominciate questa mattina le ricerche di Albino Cagna, 73 anni di Castelletto Cervo, scomparso misteriosamente domenica dopo essersi recato a bordo del suo scooter al centro ipico di Mottalciata per assistere ad una manifestazione equestre. Le ricerche sono coordinate da Cleto Canova del coordinamento della protezione civile della provincia e coinvolgono a 360 gradi anche i vigili del fuoco che già ieri hanno impiegato l'elicottero e un gommone per setacciare il cervo e inoltre sono anche impegnati i carabinieri. Purtroppo si fa sempre più largo la pista del tragico incidente, infatti sembrerebbe che Cagna sia stato visto imboccare a bordo del suo motorino il guadio che unisce Mottalciata a Castelletto Cervo, nonostante la pina del torrente, e non sia stato più visto uscire. Ancora oggi i soccorsi sono stati impegnati nel controllo del fiume nella speranza di ritrovare lo sfortunato 73enne, ma le ricerche proseguono anche solo per trovare qualche traccia del mezzo per capire dove ricercare Cagna. Anche l'elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo, senza esito positivo. I controlli in ogni caso continuano anche nella campagna circostante, con l'impiego delle unità cinofile, perché l'uomo potrebbe essersi fermato in qualche casolare abbandonato. Un biellese di 52 anni è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dai carabinieri di Candelo. L'uomo intorno alle due di notte si aggirava per il ricetto di Candelo con un'ascia in mano. Sorpreso dai militari alle loro domande sul perché della passeggiata notturna con l'attrezzo, ha risposto che era andato a fare legna, voleva fare una passeggiata e non voleva lasciare incustodita la sua ascia nel baule dell'auto. Invece un uomo di Pettinengo, di 52 anni, è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'armi. Il 52enne era già stato destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni e, nonostante ciò, durante un controllo dei militari, è stato sorpreso in casa con numerose cartucce di diverso calibro e un caricatore. E adesso andiamo a vedere un servizio che ci parla dei soldi arrivati o che arriveranno per realizzare e sistemare la tangenziale di Graglia. La giunta regionale, su proposta del vicepresidente Gilberto Pichetto e dell'assessore ai trasporti Barbara Bonino, ha deciso di integrare il finanziamento con la provincia di Biella per la realizzazione della tangenziale di Mongrando. La quota di competenze della regione, secondo quanto stabilito, viene incrementata di 230.000 euro e verrà corrisposta in due tranche, 130.000 euro nel 2014 e 100.000 euro nel 2015. Gli interventi di viabilità finanziati attraverso l'intesa istituzionale riguardano la progettazione e realizzazione della variante stradale nel comune di Mongrando, la realizzazione di una rotatoria sempre nello stesso comune e della circonvalazione del comune di Graglia. In tutto l'operazione costerà 2 milioni di euro. Dopo aver annullato una settimana di cassa integrazione a settembre, Fiat ne ha richiesta una dal 7 al 13 ottobre per tutti i lavoratori dello stabilimento di Verrone. Vediamo il servizio. Non c'è pace per i dipendenti della Fiat di Verrone. Infatti l'azienda ha annunciato che dal 7 al 13 ottobre inizierà la tanto temuta cassa integrazione. In realtà ne era stata prevista una dal 9 al 15 settembre, poi annullata. Ora però arriva questa nuova doccia fredda per i lavoratori. L'aconico è rappresentante di FIOM CGL di Biella, Adam Bodi. Fiat ci ha avvertito qual era la reale situazione di Verrone. Dopo aver annullato la cassa integrazione per la seconda settimana di settembre, ha fatto richiesta per una ad ottobre. La conferma la si avrà però solo venerdì. Le cause vanno ricercate nella delicata situazione di mercato. Infatti Fiat aveva previsto un certo quantitativo di vendite a livello internazionale, soprattutto in Estremo Oriente e ad alcuni accordi con la Cina. Vendite accordi che non sono venute in essere e che quindi hanno portato alla diminuzione della produzione. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di lavori pubblici. Ruspe in lavoro a Biella in Via Repubblica che resta chiusa al transito nel tratto tra Via Matteotti e Via 20 Settembre. Ad aprire il cantiere il comune di Biella che ha deciso di rifare completamente il fondo stradale. Infatti dagli scavi sono emersi ancora molto i cubetti reperti della pavimentazione precedente che era stata poi coperta con l'asfalto. Probabilmente è questa la causa per cui il nuovo asfalto non riusciva a durare nel tempo. Il provvedimento radicale che in questi giorni gli operai stanno effettuando consentirà successivamente un'asfaltatura capace di reggere al tempo e anche alle intemperie. Ostruzionismo in Consiglio Comunale Abbiamo seguito la diretta del Consiglio Comunale di oggi, grandi emendamenti a pioggia da parte della minoranza in Consiglio Comunale e si parla per oltre 4 ore di bagni pubblici. Con noi Roberto Pietro Bon di SEL, oggi un intero Consiglio Comunale dedicato a discutere sui tre bagni pubblici di Biella. Non è la prima volta che si discute di questi bagni pubblici. Forza di sprecare energie e costo del Consiglio Comunale sui bagni pubblici si potrebbero realizzare gratuitamente. Beh, innanzitutto è la prima volta che il Consiglio Comunale discute di questo intervento. Secondariamente un Consiglio Comunale costa 1200 euro in tutto. Terzo, il provvedimento non l'ha voluto la minoranza, l'ha voluto questa amministrazione. E quindi le responsabilità ricadono sia sull'intervento, sia sulla discussione, sia sulla scelta in capo agentino. Però la vostra è una posizione politica? Beh, vede, se io volevo fare l'ostruzionismo al posto di presentare nove emendamenti, ne avrei presentati 90 e saremmo andati avanti fino alle 4 del mattino. Io ho presentato nove emendamenti di merito per chiedere a questo Consiglio Comunale di stornare, cioè di investire quelle risorse non sui bagni, ma per la manutenzione delle strade, delle scuole, delle case popolari, del verde e dei giardini pubblici. Sembra che a Biella sia per la minoranza un problema poter far pipì dentro a un bagno pubblico autopulente di ultima generazione, ma si debba ancora fare come si facevano anni fa e andare nei bar e chiedere per cortesia di fare i propri bisogni. Allora, è chiaro che è stato un Consiglio Comunale totalmente pretestuoso, voluto dalla sinistra in qualche maniera per parlare a 360 gradi di tutti i problemi di questa città. La vera verità è che dall'antichità le civiltà si occupano di bagni pubblici, danno alle comunità degli spazi dove i cittadini possono fare i propri bisogni. Questa amministrazione ha fatto la scelta, visto che avevamo soltanto due vespasiani di accesso possibile soltanto agli uomini, ha fatto la scelta di investire una cifra normalissima, è una cifra che non sceglie il sindaco, ma scelgono gli uffici tecnici, avendo accesso al mercato della pubblica amministrazione, quindi non sono bagni che andiamo a cercare così casualmente, ma è la pubblica amministrazione che ci dice quali bagni possiamo scegliere. Guardate, a me, soprattutto gli anziani, mi dicono, gentile, falli in fretta questi bagni, che poi sui giornali compaiono come bagni d'oro o cose di questo genere. E' un intervento da 150 mila euro, tenete presente che in città stiamo facendo lavori pubblici per 20 milioni di euro. Del gruppo UPB in Consiglio Comunale a Biella abbiamo Gigi Apicella. Già con Forza Italia, anche se era discusso, appunto che Biella doveva avere i bagni pubblici. Diciamo che alla fine fa un po' sorridere perché oggi sicuramente questa città ha tante problematiche più importanti, quindi non sto qui ad elencare. Sicuramente, se vogliamo parlare, quando già dieci anni fa si parlava di bagni in Piazza Falcone, non al massimo delle condizioni, quindi, cioè gli anni passano, quindi sicuramente il discorso va visto in più vedute. Nessuno è contro, come si può dire, che in una città ci siano i bagni, anzi mancherebbe altro. E' tutto l'impianto che bisogna rivedere, quindi, diciamo, fare delle proposte alternative e cercare delle soluzioni giuste. E se siete curiosi di capirne di più sui bagni pubblici, vi ricordo che la prima parte del Consiglio Comunale, dopo la diretta di oggi, tornerà in onda domani sera a partire dalle ore 21. Torniamo a parlare di lavoro, lo facciamo con la provincia, che apre alle adesioni per il programma di riqualificazione 2013, riservato ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga. Parte la direttiva provinciale occupati a rischio 2013, che prevede la partecipazione a programmi di riqualificazione e di reinserimento per i lavoratori assunti, ma a rischio di perdere il posto di lavoro. E sul portale della provincia sta per essere pubblicato l'avviso che raccoglie le adesioni. Potranno presentare la domanda a tutti i lavoratori che attualmente sono in cassa integrazione straordinaria o cassa in deroga, con priorità per quelli che sono prossimi alla scadenza dell'ammortizzatore sociale, vale a dire quelli che già sono entrati nell'ultimo semestre di erogazione della cassa, a causa di procedure concorsuali oppure della cessazione dell'attività. E se il numero delle domande dovesse risultare inferiore all'attese, verranno prese in considerazione anche quelle domande di persone occupate presso le imprese che hanno fatto richiesta di cassa integrazione per la riorganizzazione dell'azienda, la conversione dell'azienda oppure anche per la ristrutturazione della stessa azienda. Gli interessati dunque dovranno presentare le domande al centro per l'impiego di Biella a partire da oggi. Anche il comune di Muzzano risente della crisi, ma riesce a mantenere l'ordinaria amministrazione ed ha sostituito il sistema di illuminazione stradale che era obsoleto e dispendioso sia in termini energetici sia in termini di costo. Anche il piccolo paese di Muzzano non è immune alla difficile situazione economica del paese. Muzzano è inattivo di bilancio, ma a causa delle incertezze sulle entrate è abbastanza arenato. Afferma il sindaco Romano Marchetti Abbiamo approvato la provvisione di bilancio due mesi fa, ed è assurdo. Anni fa la provvisione di bilancio era da approvare a inizio anno. Ora si è dato tempo fino alla seconda metà del 2013, proprio perché i comuni non hanno conferma delle entrate. Infatti nel giro di poche settimane il governo le ha tagliate. In questo momento riusciamo solo a sopravvivere, conclude Marchetti. Il comune di Muzzano mantiene comunque lavori di ordinaria amministrazione dal tenere in ordine le strade ai servizi per i cittadini ed è riuscito ad investire alcune migliaia di euro per la sostituzione delle luci stradali che avevano un sistema obsoleto, che consumava molta corrente elettrica ed andava contro la politica del comune di risparmio energetico ed inquinamento. E' tempo di vendemmia anche nel Biellese. Le uve dell'erba luce nella zona della serra ormai sono quasi raccolte. Nei prossimi giorni anche la zona del Bramaterra e della costa della Sesia partirà con la vendemmia. Vediamo il servizio. Dal lago di Viverone alle colline del Biellese orientale ormai è tempo di vendemmia. Mentre la raccolta delle uve bianche prosegue sulla serra, dove quella dell'erba luce ormai è oltre il 50%, questa è già terminata nelle zone della baraggia dove il mosto è già in fermentazione. Ancora qualche giorno si potrà partire con la vendemmia delle uve rosse nelle zone del Canavese e delle colline del Basso Biellese. Si inizierà intorno alla fine della settimana con il Barbera per poi proseguire con le uve nebbiolo. Nel Biellese orientale invece i grappoli del lessone e dei nebbioli non saranno staccati prima del 10 di ottobre. La pioggia di questi giorni non preoccupa i viticoltori, che anzi la vedono come un vero e proprio aiuto, perché facilita la maturazione degli acini in questa ultima fase prima dello stacco. Un'annata definita da tutti buona se non ottima al momento, la grandina è caduta in quantità modeste e pochi sono stati gli episodi violenti, rendendo trascurabile, se non nulla, la perdita per questa ragione. Anche le malattie e le muffe sono state tenute sotto controllo e non hanno minacciato le vigne in questo 2013, partito piovoso ma riscattato da un'ottima estate, che ha permesso di realizzare buoni raccolti e di elevata qualità. Ora si attende la fine di questo periodo di maltempo, per poi entrare in campo e procedere con la raccolta e la festa per la vendemmia, primo traguardo di un anno di lavoro e di attenzioni per le vigne. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di scacchi, infatti grande sorprese nel primo turno degli internazionali di Biella. In evidenza Ludovico Bargeri, Giovanni Siclari e Matteo Migliorini. Non sono mancate sicuramente le sorprese nel torneo internazionale Città di Biella di Scacchi. Nell'ampio spazio della Biblioteca di Cittastudi, ha preso il via il torneo organizzato dal club di Vallemosso all'interno del calendario di Biella Estate. Nato nel 2010 per festeggiare il ventennale di attività del circolo valmossese, la manifestazione è entrata a far parte dei tornei più importanti nel panorama scacchistico nazionale. Infatti il numero dei partecipanti è andato sempre in crescendo, dai 115 della prima edizione, disputata a Palazzo Ferrero, ai 138 della seconda, che ha visto l'inizio della collaborazione con Cittastudi, per arrivare ai 167 giocatori dello scorso anno. E l'edizione 2013 è stata di ottimo livello tecnico. I giocatori erano divisi in tre tornei separati in base alla loro forza di gioco. Un quarto torneo, intitolato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, era riservata agli under 16, valido per le qualificazioni ai campionati italiani giovanili del prossimo anno. Sono Antonello Migliorini, del circolo di Valle Mosso e degli Scacchi, Scacchi che lo è Valle Mosso. Negli Scacchi non c'è una differenza sostanziale di età, perché ci sono dei giocatori giovani che possono competere tranquillamente con giocatori più forti. Ad esempio, questa mattina c'è stata una partita nel torneo principale, in cui un forte giovane giocatore di Milano, Jacopo Motola, che se non mi ricordo male del 1998 come classe, ha battuto un grande maestro serbo, ha pattato con il grande maestro serbo Stefan Diulic, che potrebbe essere penso suo nonno. Mi chiamo Franco Zecchini e sono segretario e vicepresidente dello Scacchi Club Valle Mosso, che come avrei già detto è nato più di 20 anni fa. Siamo molto soddisfatti di questo torneo, è la quarta edizione, anche nell'ambito in cui ci troviamo. A proposito delle scacchiere che vedete qui alle mie spalle, sono esattamente 10 di questi giochi che grazie alla banca simetica noi daremo in concessione gratuita alle scuole primarie del Biellese, non solo di Biela, del Biellese. Altre 10 giochi il prossimo anno. Poi faremo un po' di rotazione, così faremo vedere tutte queste scacchiere in tutte le scuole dove noi insegniamo. Domenica scorsa pioveva e faceva freddo a San Giovanni d'Andorno, ma comunque si è svolta l'ultima giornata dei mercatini. È stato anche l'ultimo appuntamento dell'estate e quindi una situazione di bilancio per gli organizzatori che assicurano una prossima edizione. Con questa edizione del mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato noi come associazione abbiamo concluso questo ciclo estivo qui al santuario di San Giovanni d'Andorno. È stata un'esperienza molto bella, personalmente mi è molto piaciuto e vorrei prendere l'occasione in primo luogo per ringraziare tutti i nostri espositori soci perché sono stati recepibili, si sono comportati veramente bene, hanno rispettato l'ambiente, il santuario, si sono dimostrati all'altezza che pensavamo noi all'inizio. Ecco, io vi ricordo che entro fine ottobre l'associazione renderà pubblico il bilancio previsionale. Ringrazio tutti voi, vi ringrazio anche di essere qui oggi perché veramente con questa giornata è veramente da eroi e vi ringrazio per tutta l'estate e della vostra presenza piacevole. Io sono venuta varie volte a fare dei giri, avete animato il piazzale, avete attirato persone e questo alla fine è il nostro scopo, quindi vi ringrazio tanto. E ancora di questo mercato di San Giovanni di Andorno si parlerà nello spazio dopo il Tg e poi più tardi, ovvero alle 21.30, due biellesi nel mondo ci porteranno a visitare le splendide realtà del Mediterraneo. I sassi di Matera sono patrimonio mondiale dell'umanità dal 1993. Annoverati tra i siti sotto la protezione dell'UNESCO costituiscono il vecchio nucleo abitativo della città. I vecchi rioni prendono forma all'interno di due ampie cavità rocciose e si caratterizzano per una incredibile architettura rupestre. E poi dopo due biellesi nel mondo, alle 22 ci sarà l'appuntamento con Pianeta Sport con il diciottesimo trofeo di ciclismo Carlo Ramboldi tenutosi in provincia di Varese. Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport. Oggi siamo a Cavari a compremezzo per il diciottesimo trofeo Carlo Rabboldi alla memoria. Gara per la categoria allievi, l'organizzazione a cuore della società ciclistica cavariese con la collaborazione del Circolo Coop di premezzo. Gara che si disputerà in circuito di 8 km che toccherà i pesi di Ierago, Rago e Cavaria con arrivo in leggera salita a premezzo. Dieci giri per un totale di 80 km. E siamo alle fasi preliminari di gara con il presidente della Cavariese, Pierluigi Macchi che sta parlando con i direttori di gara. Abbiamo visto anche Gian Antonio Marcelli, responsabile tecnico della categoria allievi, per quanto riguarda la provincia di Varese. Come di consueto per la categoria allievi, prima di firmare il foglio di partenza, vi è la prova rapporti dove tutti i corridori dovranno misurare la pedalata massima che per questa categoria è il 52 denti anteriore per un 16 denti posteriore, che è uno sviluppo per pedalata di 6 metri e 94 centimetri. Saranno bene 149 atleti che tra poco prenderanno il via per questo diciottesimo trofeo Carlo Rabbolli. Ebbene, quindi alle 22 andremo a seguire come è finita questa gara ciclistica. È tutto per questa edizione del Telegiornale. Un saluto da parte mia e da Elena Lovero in regia. Grazie a tutti.